Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella ventiquattresima puntata della serie, oggi siamo qui con... Buon appetito a tutti Buon appetito a tutti Ok Stasera ragazzi andremo a fare qualcosa di nuovo, dato che, allora, abbiamo tanto l'età ma vogliamo usarlo Per cui, allora, mi serve una mano da parte di qualcuno Allora, chi è che mi dà una mano con un trattore? Anche piccolino, eh Bene, allora, dobbiamo prendere Allora, li ripristiniamo, che facciamo prima Erano qua, sì, perfetto, uno Due E tre E bisogna portarli a vendere Ok, quei tre bisogna portarli a vendere Carellini E in compenso ce ne compriamo Ok, vediamo se riesco a fare una manovra mezza fatta bene Perfetto E in compenso ci compriamo, ragazzi, questi qua Allora, dov'è? Che sono spanni con cime? Questo qui Però ce ne compriamo uno perché non abbiamo i soldi e poi ne compreremo un altro Tanto che poi si vanno a vendere quelli due Qu'ho preparato il 9.36 E l'ho caricato di letame perché adesso inizieremo a fare qualcosa di diverso Dato che l'età me ne abbiamo tanto per fare tanta strada Mi sembra così A parte che magari è più bello qualcosa di diverso Ma forse è anche più reale per cui facciamo così Allora, praticamente A parte queste cavolo di laggate Che ragazzi non riesco a capire perché laggo E ho provato tutto Ho provato anche ad aprire le porte Non cambia niente Io laggo sempre Ora, non so Vabbè Spero di sistemare per la prossima puntata Perfetto Rimbalziamo Abbiamo il fend fatto di gomma Adesso dobbiamo andare al campo 25 25 è di là Perfetto Per cui qui dobbiamo girare Ah, prena Scusate se vedete davvero la gare Ma non so cosa farci Ragazzi è un paio di giorni che sto chiamando Per far sistemare Mi dicono Sì, sì, sistemiamo Invece non cambia un tubo Guardate Mamma mia che nervosi Io voglio sapere se si può fare una roba del genere Ho fatto lo speed test Mi da ping Poi magari ve lo metto anche come screen In sovraimpressione Ping 1ms Vi giuro Ma ho dato un millisecondo di ping Come connessione Arrivo in farming Ping 80 e laggo Vanno a fare Serio Qua ci passiamo, vero? Sì Ok, allora Comunque portiamo Abbiamo treppiato il campo 25 E ci portiamo l'etame Così poi lo carichiamo Su un trattore Sì, va bene Un trattore era ovvio Ma lo carichiamo su Sullo spandicon cime E lo diamo Così Praticamente Allora Vediamo dove si potrebbe Scaricare In un punto che non dia Molto fastidio No, l'entrata del campo Non mi sembra il caso Facciamolo dei mucchi qua Anzi, anzi, anzi Anzi Cioè lo portiamo nella parte sud del campo Che c'è più spazio E c'è il campo d'erba vicino Come si faccia a fare i mucchi? Ehm Control Control F Ma perché che mucchiere farsi? No, dell'intrata No, dell'intrata Se me il mappone è un luogo Un miscelatore Devo cambiare Capito Ah, controllo R Mi sembra Eh, sinistra Eh, sinistra O, R O, R, T Un po' Sono lo strato ma nel gioco Non è un po' Il proletto Non è un po' Un po' Eh, poi portalo qui al 25 che spendiamo qua Perfetto Perfetto Scarichiamolo qua Ok control Si è controllata allora facciamo un chietti grandi che almeno ottimizziamo anche gli spazi perfetto e uno è fatto poi adesso ci andremo ci andremo dietro continuiamo a portarlo qua così che è davvero qui ce n'è stato tanto anna dicevo se è pagato no perchè beh sono andato sul ponte sono incastrato sul ponte mentre l'aggavo un po' un po' un po' un po' no è colmo quella un po' allora perfetto adesso fate che anche qui dovremmo averne un po' di letame che frena ma guardate che nervosi ragazzi magari questa puntata la faccio un pochino più corta devo farla comunque perchè perchè mi serve da fare ah comunque ragazzi oggi è il è venerdì 13 state attenti eh porta sfortuna quanto pare il venerdì 13 a chi è superstizioso voi lo siete allora no 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 ma fammi capire l'umotore è stabile lo so è sulla parte alta eh se vai su dritto così lo trovi vabbè vado su ecco 2 5 5 6 12 3 3 4 4 4 3 4 4 4 c'è ancora dell'età messo sto silberta per la cima ma c'è da portare da vendere anche questi è il pancrello un bambino.it no vabbè 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 lasciamo perdere perchè se no stasera scendono altro che santi ho coperto di nuovo la trincea per sbaglio maria troppo posto mario parma e si sono qui in fare ho coperto questa della farm che è anche questa qui mezza vuota basta non devo più compattare le vasche se no no ma devi passare di qua pietro no solo che solo che diciamo è tutto pietro è tutto pietro carriera ah ok se mi fai spazio ne vado a caricare un po' almeno ci sta no no e qui siamo nelle manovre ragazzi ecco da borrini carriera ecco da borrini ecco da borrini ecco lui ecco lui qui c'è c'è la la bestia il che è qua il traffico eh ecco 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 si carica ma no ma chi è che ha tolto il trattorino che c'era da qua sotto che adesso non carica più a dire simon mi sa che è che era molto per 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 se ne prendi non so 724 cosa 722 no che mi serve poi beh poi qui c'è il silver car guarda un po' se riesci a fare un mucchio sennò sennò boh dallo su un campo che serve sennò vedi anche così vedi 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 perfetto vabbè ok adesso qui si sta facendo il poste a pietro perfetto intanto vabbè intanto che si carica noi possiamo prendere questo e non tirarci via al fender che ci costa più di tutto ma abbiamo metto mila euro in tasca no la crona ma mmmm si ma no 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 simon io sono io ok ah simon non è innocente allora vediamo se riesco a girarmi in qualche modo se no me la faccio in elettromarcia che faccio prima no facciamo così no no perfetto adesso dobbiamo vedere se è da spostare almeno facciamo scaricare pietro ok eccolo qui 97% aspetta che carico ancora una piccola percentuale se riesco hai malganciato il gancio trailer ecco perché sai che faccio c'è stato da fare le manovre fd 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 che duggle fd 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 ce l'ho fatto perché è un casino riuscire a caricare dal mucchio qua neanche buttando il nest... eeeh si innesta il test... eeeh... l'annafoda non è che buttare in terra al nastro se la fate lo stesso ma chi ha fatto una ipo qua voglio no qua infarto c'è una ipo che c'ho scaricato per sbaglio ledame ma ce n'è almeno e grazie al... grazie ce ne sono 0 litri dentro ecco perché non riesco più a caricare avanti pietro viene a scaricare... eeeh... e cosa dici che rapine vuota? ma che è vero è qua ehm... si può togliere in qualche modo eeeh... 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 ma che segno è vero qua eh si vabbè dai fa niente aspetta che mi levo oh io non lo capisco via cioè andiamo con la bestia qua ah ragazzi potrebbe allora questa puntata l'avevo registrata un pochino prima ma in teoria adesso per voi è uscito il 939 s4 dcmt per cui a breve verrà aggiornato si è uscito per forza già per cui niente vi no il paletto scrivetemi se volete che teniamo anche questo o se questo lo imbarchiamo non so per me non dico che cioè si per me è uguale eh si ho dovuto fare il salto anche se non volevo in realtà ma se no mi sarei piantato contro la casetta per cui sono un po' stato costretto a fare il salto vediamo quanto siamo 14 minuti si dai direi che facciamo questo scarico e poi per questa puntata la cosissima è tutto eh scusatemi ma non non so cosa farci non so che è brutto quando lag però non so cosa farci ragazzi guardate adesso mi sono incastrato magari mi fa scaricare un letame in funcina ah no certo che proprio qui ma potevo prendere anche l'altra strata ma questa che forse si fa farina ok perfetto non girare sui tronchi ok ce l'abbiamo fatta io quando accelero lui frena prendo lui accelera no 100 di pingo 93 non so poi proverò magari anche a riavviare il server ma non penso voi non lagate beh io io se faccio qualche scattino sì non tanto ma a tutte volte sì se dici qualche scattino allora non è chiaro come sto laggando io se no non dici io non sto facendo qualche scattino ogni tanto tipo una volta ogni un'ora vado fluido per un secondo poi mi si rimette alla gara perfetto svutiamoci anche questo dentro la hip possibilmente lasciate perdere cartone di manovra fatto io sto pregando il fatto vicino poi passo le 10 allora in retromarcia quanto c'è dentro ha creato un altro mucchio vicino o si sono divisi a boh non mi interessa vabbè io direi che per questa puntata è tutto poi noi caricheremo nella prossima puntata qua col 722 caricheremo il l'etame sui carri e tutto e a venire tantissimo per la visione da Dan è tutto e scusate ancora se è venuta tutta la puntata qui mega laggante ciao a tutti ciao a tutti